Ce ne sono quattro, uno più bello dell'altro. Mi stanno guardando, mi stanno guardando i piccoli, quattro amori. Allora quella che vedete è la guglia del frate, adesso faccio una panoramica su tutto il vallone di forzo. Quattro amore. 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 una di quelle dovrebbe essere cimaferma, non so quale sia adesso scendo un attimo e vi faccio vedere il vallone dell'Arcando che secondo me è uno dei posti più selvaggi scendiamo, la sotto abbiamo una parte della Valsoana, in fondo il canavese con le nebbie l'altro giro ecco qui lì mi parec, e poi vedeppi sull'arca, e l'altro giro ecco qui lì mi parec, e poi vedeppi sull'arca, e l'altro giro ecco, come la quinzeina ecco la storia selvaggio vallone dell'Arcando ecco qui scendo questa zona anche però non vedeppi sulle non vedeppi so che ancora avanti ecco qui riepita attivano una cosa che c'è ecco qui a l'arca è molto freddo ecco qui Grazie a tutti. Grazie a tutti.